Ciao a tutti ragazzi, venerdì 17 agosto, avrò l'onore per quanto mi riguarda di aprire la serata uno dei più forti DJ internazionali del momento, uno dei miei DJ preferiti, quindi sono molto contento, sono molto onorato di questa situazione di questa sera. Quindi niente, non resta che lanciarci della notte del Rio Bo di Gallipoli, questa notte in console Stefano Payne, Savi Vincenti, ma soprattutto Axwell. Andiamo? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti